Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto, inevitabile della mia libreria. Allora, cari signori, oggi è duopo ed obbligo indossare la sacra polo vintage degli all blacks neozelandesi di rugby perché per la prima volta dopo due anni da che ho aperto questo canale parleremo, parleremo di un sistema d'arma prodotto, progettato e costruito, anche se in pochissimi esemplari, in Nuova Zelanda. Vi avviso signori, questo è un video per stomaci forti, per stomaci molto forti, per uomini e donne duri e dure, insomma per uomini e donne che non hanno paura di niente perché, cari signori, preparatevi, oggi parleremo di questo attrezzo qui. Guardate un po' che roba, guardate che roba signori, che cos'è signori, si tratta molto probabilmente del più brutto, del più ignobile, del più vergognoso, del più disgraziato, del più, del più, del più peggiore, anche se non si può dire, ma è più peggiore comunque, carro armato di tutti i tempi. Signore e signori, vi presento il Bob Sample Tank, ovvero sia il carro armato di Bob Sample. Chi è questo signor Sample? Allora, il signor Sample era Bob Sample, Robert Sample, era ministro del lavoro nel 1941 in Nuova Zelanda. Era un politico neozelandese che ebbe la pensata di, come dire, sfruttare le scarse possibilità industriali della Nuova Zelanda per, diciamo, difendersi da un eventuale attacco giapponese. Allora, come ben sapete, 7 dicembre 1941, i giapponesi attaccano per l'arbor, i giapponesi invadono praticamente il mezzo Pacifico e australiani e neozelandesi se li trovano quasi sotto casa, detta così com'è. Oggettivamente la Nuova Zelanda è un po' nei guai. Allora, isolata dalla madre e patria inglese, impossibilitata a ricevere rinforzi, impossibilitata a, come dire, ad avere carri armati o mezzi corazzati moderni, bisogna arrangiarsi con quello che c'è, perché con che cosa li fermi i giapponesi? Forse con gli old blacks, ma insomma, vabbè, vabbè, insomma, mettiamola così, cioè con cosa fermi un'eventuale invasione giapponese? Cioè tirandogli dietro i kiwi, nel senso di frutti o di uccellini senza ali, facendoli attaccare, non lo so, dal cacapo, quel grosso pappagallo che non vola, che ti si arrampica sulla spalla e poi ti fa così sulla testa, cioè vabbè, lasciamo stare. Insomma, siamo sinceri, la Nuova Zelanda, quando la guerra arrivò, quando i giapponesi dichiararono guerra agli Stati Uniti nel 1941, la Nuova Zelanda era oggettivamente in grosse difficoltà e il ministro del lavoro neozelandese Bob Sample ebbe l'idea di corazzare alcuni trattori agricoli, insomma alcuni trattori cingolati per uso civile prodotti dalla Caterpillar, corazzarli alla meno peggio, metterci dentro 5 o 6 fucili mitragliatori Bren e ricavarne questa roba qua. Insomma, signori, non è oggettivamente un granché il Bob Sample Tank. Prestazioni decisamente scarse, stabilità scarsissima perché la sovrastruttura in lamiera ondulata spessa dagli 8 ai 12 mm creava veramente problemi irrisolvibili di spostamento del baricentro. Il mezzo era troppo alto, era troppo stretto e nella marcia fuoristrada era praticamente incontrollabile. Per fortuna dei neozelandesi non ci fu bisogno alcuno di usarlo in battaglia, anzi i pochissimi esemplari costruiti, mi pare che furono 5 o 6 su alcuni telai Caterpillar, insomma su alcuni telai di trattori cingolati Caterpillar, furono ben presto smantellati e riconvertiti nuovamente all'uso originario. Insomma, il Bob Sample Tank è molto probabilmente il più brutto mezzo corazzato di tutti i tempi, molto probabilmente. Il più ignobile perché, insomma diciamoci la verità, non aveva chissà quali prestazioni, lento, pesante, decisamente poco stabile e alquanto diciamo problematico nella guida perché era una soluzione molto 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 arrangiata, molto precaria così. Dico io, va bene, la disperazione, il rischio di ritrovarsi i giapponesi alle porte di casa, la necessità aguzza l'ingegno, ma oggettivamente qui siamo sinceri, cioè io non so che cavolo dirvi signori, su questa cosa, su questo ammasso di... su questo ammasso, ecco, non stiamo a spiegarlo così. Insomma, una classica arma della disperazione. Ne sappiamo qualcosa a noi italiani perché, come dire, al momento della caduta dell'impero si può dire che uno dei pochissimi mezzi corazzati ancora efficienti in mano alle nostre truppe nel morente impero italiano in Etiopia era un camion Fiat dovunque corazzato saldandoci sopra le lastre delle sospensioni a balestra. Veniva chiamato culquaber questo mezzo. Dovrei cercare di recuperarne anche le foto. Insomma, dicevo, il Bob Sample Tank era un mezzo della disperazione, era assolutamente un mezzo della disperazione. C'era bisogno di... insomma c'era una necessità, c'era urgenza per la Nuova Zelanda di difendersi da una possibile invasione giapponese. C'era la necessità di... insomma, sì, c'era la necessità di avere un qualcosa con cui difendersi. E il ministro Sample, Bob Sample, ebbe l'idea di ricavare da dei trattori, insomma, da un trattore, da un trattore civile, di ricavare da un trattore civile, questo... 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 insomma, guardatelo... insomma, signori, che vi posso dire? Che vi posso dire? Vi avevo avvisato, questo era un video per stomaci forti, ma molto forti, cari signori. Insomma, cari signori, che vi posso dire? Il Bob Sample Tank, arma della disperazione, fortunatamente per gli equipaggi mai impiegato in battaglia, un porta mitragliatrici che riprendeva in un certo senso il concetto dei carri armati, tra virgolette, femmina, dei carri armati inglesi femmina della Seconda Guerra Mondiale, quelli che erano armati soltanto con le mitragliatrici. Un mezzo, il Bob Sample Tank, che sarebbe stato poco più di una trappola per topi per gli equipaggi e di un bersaglio poco mobile per i giapponesi, perché, ripeto, era un mezzo dalla guidabilità pessima, dalla stabilità quantomeno aleatoria. L'estetica non solo era ignobile, ma era piena di trappole per colpi, cioè qui bastava veramente una fucilata per fermarlo. Insomma, il Bob Sample Tank fu un mezzo esteticamente orrendo, un carro armato di fortuna che fortunatamente per gli equipaggi e per la Nuova Zelanda non fu mai usato in operazione. Sarebbe stato un mezzo efficiente? Come avrebbero, insomma, un mezzo efficiente per fermare i giapponesi? Sì, che si sarebbero fermati e si sarebbero messi a ridere, detta com'è molto probabilmente. Ripeto, molto più efficace contro l'invasione giapponese sarebbe stato il pacchetto di mischia degli All Blacks. E lì, scusate, se ve lo dico, i figli del Tenno ne avrebbero prese veramente, veramente, veramente tante. Per non parlare poi del pessimo e notorio, del notorio, pessimo carattere della popolazione maori. Lì ci sarebbe stato veramente da ridere. Tra giapponesi e maori ci sarebbe stato veramente di che mettersi seduti in poltrona con popcorn e birretta a guardare lo spettacolo. Però, vabbè, insomma, signori, torniamo un attimo serio. La storia della Seconda Guerra Mondiale è piena e pienissima di mezzi corazzati di fortuna. Noi ne sappiamo qualcosa. Durante la Guerra di Spagna i repubblicani fecero un ampissimo uso di autoblindo e cingolati corazzati, di autoblindo di fortuna e di mezzi corazzati ancor più di fortuna, simili al Bob Sample Tank. Il Bob Sample Tank, se vogliamo, è lo stato dell'arte del mezzo corazzato di fortuna. Se riuscite a trattenere i conati di vomito guardandolo, tutto qua. Quindi, cari signori, come sempre, aspetto le vostre considerazioni, aspetto i vostri commenti, aspetto che mi diciate qualche cosa a proposito del Bob Sample Tank, perché veramente qua dobbiamo farci quattro risate. Insomma, signori e signori, che vi posso dire? Un orrore tecnologico, un orrore meccanico, una cosa spaventosa. Ve l'ho detto che questo era un video per stomaci forti. Non potete negare che non vi avevo avvisato. Quindi, cari signori, come sempre, vi dico, arrivederci al mio prossimo video. Come sempre, ci sono i commenti. Mi raccomando, signori, parliamo del Bob Sample Tank. Per favore, sbizzarritevi, che dobbiamo veramente farci quattro risate. Quindi, ripeto, cari signori, io, la versione, come dire, la versione cingolata dello Zuber polacco e del Breda B88 Lince italiano, come dire, vi salutiamo al prossimo appuntamento, al prossimo video. Come sempre, ripeto di nuovo, commentate, fatemi sapere che ne pensate e, come sempre, arrivederci di nuovo al mio prossimo video. E ancora, ciao!